Maestro Menchino Maestro Menchino Maestro Menchino A partire da martedì 7 a giovedì 9 aprile Presso il Botteghino Ha ubicato in tribuna centrale dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 19 E' quando l'ho visto in occasione di Agragas e Marcianice del 3 maggio Per la quale dato è stata premessa la giornata bianca azzurra Ripeto, l'Agragas comunica tutti i possessori dei taglianti di ingresso allo stadio Della partita di Agragas-Torre Poso Che sarà possibile convertire gli uomini con quelli nella prossima partita casalinga La conversione potrà essere effettuata da martedì 7 a giovedì 9 aprile Presso il Botteghino Abicato in tribuna centrale dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 Buon anno! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.